Buongiorno, grazie. Noi ci siamo un po' arrangiati. E viva il Presidente! E viva il Presidente! E viva il Presidente! Presidente, grazie infinite. Grazie per la sua presenza. Buongiorno, bravo. Buongiorno. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie a tutti da parte di tutti. Complimenti per quel fatto. Grazie. 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 E da qui portivano le scuole? I video pulitrici, i drogoli. E' pulito. No, è pulito. Salve Presidente, grazie. Grazie di tutto. Tutto un magazzino. Grande generosità. Presidente, nelle prime ore abbiamo accolto le persone che venivano evacuate. Ho visto, ho visto. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, piacere. Grazie a tutti. Subito dopo, siamo riusciti a collocare tutti. Non si stringerà la mano. Buongiorno. 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 Grazie. Grazie. Abbiamo collocato tutti gli evacuati in l'estero, in il convento. Ci hanno dato una grande mano. Le brandine. Grazie. 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 Grazie a voi. E quindi è diventato un magazzino per i bambini, per gli animali, per il senza glutine. Quindi è diviso tutto in maniera... qui tutta la parte alimentare. Scientificamente precedente. Buongiorno. Gli scoutano, gli abiti, gli abiti, le prime persone che ho visto qua a martedì notte sono arrivate neanche in un uomo. Quindi è stata proprio la prima. Benvenuto, Presidente. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Buon lavoro. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.